Cresce il numero dei poveri a Teramo. Il Covid non ha creato solo l'emergenza sanitaria, ma anche quella sociale. Mille le domande presentate all'amministrazione comunale per ottenere i buoni spesa, moltissime via WhatsApp, con un esborso che toccherà all'incirca i 200.000 euro. Fino ad oggi sono state liquidate 673 istanze. Di queste 245 arrivano da single oltre 60 anni, 145 da famiglie composte da tre persone, 104 da nuclei familiari con minori e 183 da famiglie particolarmente numerose. La quasi totalità di queste persone è la prima volta che chiede aiuto. È la fotografia della nuova povertà a Teramo al tempo del coronavirus. Tanti giovani padri e madri, quasi sempre precari, non hanno più soldi per la spesa e tra un po' la situazione potrebbe anche aggravarsi coinvolgendo affitti e bollette. C'è grande preoccupazione nelle parole dell'assessore comunale al welfare, Ilaria De Santis. Purtroppo sto notando, e mi auguro comunque che sia una povertà temporanea, che c'è questa fetta nuova, questa nuova panoramica che possiamo fotografare post-Covid. Di una serie di famiglie che non hanno mai avuto contatti con i servizi sociali e comunque con altre realtà di volontariato come la Caritas, quindi non sono loro assistiti, che hanno presentato la domanda. Questo mi fa comprendere come tutti quei nuclei giovani non riescono attualmente a sostenere la propria famiglia, proprio perché magari facevano dei lavori a contratto giornaliero, oppure comunque contratti precari, che quindi attualmente non riescono ad avere delle entrate tali da permettere anche di fare la spesa. Parliamo quindi di cibo, ma domani se si dovesse aggravare questa situazione dovremmo iniziare a parlare anche di bollette, di affitti e di tutte quelle spese che giornalmente e quotidianamente le famiglie devono sostenere. Io mi auguro in una ripresa al più presto delle attività, cercando magari di mantenere naturalmente le prescrizioni che ci sono state imposte. Nel sostegno alimentare procede spedito anche il COC di Teramo, che fino ad oggi ha consegnato 870 pacchi contenenti beni a lunga conservazione, mentre per il periodo di Pasqua sono stati distribuiti anche 500 uova di cioccolata, 300 colombe e tanti giochi da tavola per i bambini.